È giunto il momento di svelarvi qual è la mia nuova auto, ma mi state vedendo ancora nella 500, beh la 500 è la mia nuova auto, no, sto scherzando, vi spiego tutto dopo la sigla. Cari amici teslari, oggi ho ritirato la mia nuova auto, ma mi vedete dentro la 500, c'è un motivo, vi avevo ripreso tutto il viaggio per andare a prenderla, a portarla a casa, ma non mi ha registrato l'audio, la GoPro, e quindi vi racconto il mio viaggio e poi alla fine ve la svelo. Beh, intanto siamo partiti stamattina, io e mio figlio, con una macchina a noleggio, una magnifica Kia Picanto bianca, anche quella bianca purtroppo, dai sto scherzando, siamo andati a riportarla al noleggio, abbiamo preso il treno per una destinazione segreta, ma ora vi faccio vedere chi è il personaggio misterioso che è venuto a prendermi in stazione e capirete subito dove sono andato a prendere la mia nuova auto. Beh, insomma, ma allora che macchina ho preso? Beh, fatemi cambiare auto e ve lo dico subito. Ed eccoci qui magicamente in una Tesla, beh, più o meno sono tutte uguali. Beh, intanto possiamo escludere Model S e Model X. Beh, ve lo dico, è una Model Y. Che versione di Model Y? Model Y Performance. Nera. Ebbene sì, sono su una Model Y Performance del 2022, ha esattamente un anno di vita, quindi l'ho comprata usata. Chi aveva indovinato nei commenti? Beh, diciamo che non era facile, perché soprattutto Model Y non era un modello che mi interessava particolarmente, ma casi della vita hanno voluto che abbia trovato questa Model Y Performance a delle condizioni di acquisto particolarmente vantaggiose. è sicuramente un'auto che comunque mi piace, molto spaziosa, perfetta per la famiglia, rimane comunque un modello performance, non avrei valutato long range o trazione posteriore, ma per mio interesse personale. E quindi mi trovo su questa bellissima Model Y Performance e sono molto contento dell'acquisto. e dicevo è un esemplare del luglio 2022, nera, interni neri, con FSD completo e quindi ci ho appena fatto circa 330 km per portarla a casa, devo dire è molto molto comoda, sono molto contento dell'acquisto. devo ringraziare tantissimo Paolo iRocket che mi è venuto a prendere in stazione a Roma per portarmi dal venditore mi ha fatto sicuramente piacere incontrarlo e quindi grazie mille Paolo per la tua disponibilità e ora finalmente i lampi tornano a essere su una Tesla, esattamente come sempre e come giusto che sia. questo è tutto, fatemi sapere se avevate indovinato o no nei commenti e ci vediamo alla prossima, ciao!